Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo della Petzl Now RL, ovvero la torcia più potente di casa Petzl e anche quella che viene utilizzata da tutti i top 3 runner. Adesso insieme vediamo pregi di fette all'interno del censo di completa. Iniziamo subito dalla parte più importante di una torcia frontale, ovvero la luce che emette, perché qui c'è davvero tanto da dire. Innanzitutto la sigla RL sta per Reactive Light, infatti questa torcia ha un sensore di luce che va a cambiare l'intensità della luce in base alle situazioni in cui corriamo. Per farvi un esempio, se noi magari corriamo per strada, in alcuni punti abbiamo un lampione, in altri no, nei punti in cui c'è il lampione la torcia andrà automaticamente a diminuire l'intensità luminosa risparmiando batteria e nel momento in cui invece non c'è il lampione la luminosità tornerà massima. Altro esempio invece è che quando noi guardiamo magari davanti ai nostri piedi a 3-4 metri la luminosità diminuirà perché non avremo bisogno di una luminosità massima. Nel momento in cui invece alziamo la testa magari per guardare più lontano, vedere cosa abbiamo davanti, ecco che la torcia andrà ad emettere un foglio luminoso molto più potente per andare a vedere più in profondità. Questo lo fa in automatico, cioè fa tutto lei da sola. E devo dire che questo sensore aiuta davvero tantissimo sia a risparmiare batteria, sia ad avere la giusta luce per il contesto in cui stiamo correndo. Devo dire che come sensore lavora molto bene nel 90% dei casi, perché capita se magari abbiamo davanti una persona con qualcosa di diffrangente, ecco che la luce verrà rifratta e lui anche se magari vogliamo vedere la luce massima andrà comunque a diminuire l'intensità, oppure se magari troviamo qualche roccia bagnata che quindi riflette la luce, ecco che lui andrà comunque a diminuire l'intensità. Questo però non lo avverserei come un problema perché volendo possiamo andare a escludere il sensore Reactive Light. Infatti poi possiamo utilizzare la torcia in modo più classico con tre potenze, la potenza minima di 10 lumen che dura all'incirca un'ottantina di ore, media 250 lumen che dura circa 5 ore e massima di 900 lumen che arriva circa a 2 ore. Invece per quanto riguarda la potenza utilizzata con Reactive Light, anche qui ne abbiamo tre diverse, quella minima che arriva a un massimo di 250 lumen, addirittura pensate con un'autonomia che è sopra le 50 ore, quella media che arriva a 550 lumen e con un'autonomia massima di 40 ore, e la modalità massima di potenza che arriva a 1500 lumen con un'autonomia che può arrivare a 24 ore. L'unica cosa più importante da tenere conto se ti utilizza il sensore Reactive Light è che la durata della batteria è molto variabile, perché se utilizzeremo una torcia in modalità bassa di luminosità è che durerà tante ore, se utilizziamo una torcia invece in modalità massima di luminosità naturalmente la batteria tenderà a sconsumarsi prima. Devo dire, una torcia abbastanza complessa da spiegare, però molto semplice da utilizzare, veramente fatta molto molto bene, e soprattutto mi piace anche il fatto che tenendo premuto per 4 secondi il tasto di accensione questa si blocca in modo tale che non avremo problemi che si possa accendere all'interno dello zaino. Infine nella parte posteriore troviamo anche la luce rossa che ci promette di essere visibili di notte magari se corriamo per strada e questa può essere utilizzata sia a luce rossa fissa sia a luce rossa lampeggiante così proprio da essere visibili in qualsiasi momento e ovunque corriamo. Ma visto che già vi accennavo di batteria, qui troviamo una batteria che è completamente diversa dalle altre torce di Pezzel, perché troviamo una batteria R1 una batteria che dura molto di più, molto più capiente una batteria che si ricarica con un cavetto USB-C e che addirittura può essere utilizzata per andare a ricaricare altri dispositivi una batteria facilissima da estrarre, basta premere un bottone e si toglie è veramente fatta bene e poi mi piace molto il fatto che abbiamo anche 5 LED che ci permettono di capire a che percentuale di batteria siamo molto utile per andare a capire quanto la torcia ha ancora di autonomia ma come sta in testa questa Now RL? devo dire abbastanza bene ha un sistema ibrido, ovvero che nella parte anteriore troviamo la classica fascia proprio semplice che va a coprire tutta la nostra fronte mentre nella parte posteriore troviamo una serie di cordini che vanno a chiudere la torcia devo dire che questa combinazione ibrida mi è piaciuta molto perché sulla parte anteriore dove abbiamo la pelle più esposta sulla fronte troviamo una fascia abbastanza morbida che non ci darà problemi e nella parte posteriore invece dove abbiamo magari una minor sensibilità troviamo dei cordini perfetti per andare a stringere uniformemente la torcia devo dire che è davvero molto stabile come torcia perché correndoci su sentieri tecnici o comunque ad alte velocità non ho avuto nessun problema e poi nella parte posteriore è presente un piccolo gancetto che ci permette di andare a tirare questi cordini in modo tale anche da stringerli attorno alla nostra testa devo dire che da questo punto di vista è fatta veramente molto molto bene e volendo si può aggiungere anche un terzo ancoraggio che passa direttamente sopra la nostra testa e che va proprio a stabilizzare al massimo questa torcia dunque arriviamo ai conclusioni per questa Petzl Now RL iniziamo dal prezzo perché online si trova sui 130 euro ve la consiglio? sì però tenete conto anche dove dovete utilizzarla perché è una torcia che dà tantissima luminosità una torcia che ci aiuterà nelle gare anche di tre running più lunghe più difficili è una torcia a utilizzare se andate a fare delle gare veramente lunghe dove c'è bisogno di tanta autonomia dove c'è bisogno anche di tanta potenza ecco che se magari correte qualche ora di sera, di notte, eccetera ci sono sicuramente delle torce che abbiamo provato che trovate a recensione sul canale che costano meno e sono comunque ottime questo è proprio il top di gamma ed è pensata per chi fa delle attività veramente ultra e veramente difficili e detto ciò ragazzi la speranza sia stato esaurante e sostivo anche per questa recensione ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao